Tutte le caselle della macchina amministrativa ora sono riempite. A due mesi dalla convocazione del primo consiglio comunale, le sei commissioni consigliari hanno eletto nei giorni scorsi ciascuna il proprio presidente e vicepresidente. Saranno Riccardo Poletto e Paolo Bertuzzo al vertice della prima commissione affari costituzionali. Gianni Castellan e Manuela Remonato guideranno i lavori della seconda commissione che si occupa di bilancio risorse umane e finanziarie partecipazioni sicurezza finanziamenti europei. Alla terza commissione urbanistica red urbano ambiente sono stati designati come presidente Valentino Antonio Piccolotto come vice Paolo Retinò. La guida della quarta commissione cultura turismo attività museali spettacoli attività economiche è stata affidata a Chiara Tessarollo con vice Gianni Zen. Patrizia Fietta e Paolo Ateosini sono state elette a capo della quinta commissione servizi alla persona politica giovanili sport e istruzione. Sarà infine Stefano Giunta a presiedere la sesta commissione lavori pubblici patrimonio mobilità protezione civile con vice presidente Roberto Campagnolo.